Quella di ristoratori, bar e pubblici esercizi continua ad essere la categoria più colpita dalle ultime restrizioni volute dal governo. Oltre al malcontento per la decisione presa dal Premier Conte che con il passaggio delle marche in zona arancione ha costretto bar e ristoranti a chiudere fino al prossimo 3 dicembre, ora da parte di una rappresentanza di ristoratori appartenente al gruppo Ristori Italia, arriva anche la stoccata alla Conf Commercio di Pesaro Urbino. Se la prende con il direttore provinciale Amerigo Varotti, Giorgio Andrea Ricci, presidente di Ristori Italia, che ha accusato lo stesso Varotti di averli abbandonati, nonché di essersi tirato indietro nel momento di richiesta di un incontro per tutelarli. Specialmente con alcune associazioni di categoria ci siamo trovati anche a richiedere un aiuto e sia noi, sia il nostro consulente Regnier, sia tramite anche il presidente Cecchini che è il presidente degli albergatori a chiedere un incontro al direttore Varotti che in questo caso ci ha chiuso la porta in faccia. Come mai? Probabilmente questo ce lo diranno più avanti. Noi abbiamo chiesto più di una volta un incontro perché a un certo punto ci dovevano in qualche maniera tutelare come sindacato. Questo non è stato fatto, ci hanno abbandonati. C'è una mancanza in questo senso? C'è una mancanza e noi, il nostro malgrado, ci siamo costituiti, siamo circa 300 e siamo in crescita, siamo circa 300 associati e anche non cercando di fare il mestiere che fanno alla Confommercio, che noi non abbiamo nulla, però il direttore Varotti ci ha chiuso veramente la porta in faccia. Intanto Lorenzo Vedovi, portavoce Ristori Italia, annuncia ulteriori manifestazioni anche a livello nazionale, per rimarcare la linea. Ci hanno cercato anche a livello nazionale, per questo ribadiamo con estrema qualità di presentazione dei fatti che noi non cadiamo in polemiche o in buttarde come magari altri cercano di fare e se riusciamo a parlare con dei senatori della Repubblica lo vorremmo fare in Parlamento e presentare attraverso chi ci dà spazio delle emozioni di categoria di categoria, non li ospitiamo a cena per fare una situazione conviviale e privata, quindi questo deve essere la forza che traina un'associazione di categoria.